Marilina Cortazzi è la nuova segretaria generale della CISL Salerno, insegnante 57enne originaria del capoluogo, la Cortazzi è la prima donna a capo della Confederazione Provinciale del Sindacato. La sua elezione è avvenuta a lunedì pomeriggio al Savoy Bicciotel di Capaccio Pestum durante il Consiglio Generale, convocato dalla CISL Campania. Iscritta al sindacato dal 1997, la Cortazzi è iniziato come RSU per poi arrivare nel 2011 ad essere eletta segretaria generale della CISL Scuola Salerno, ruolo che ha ricoperto fino al 2017. Negli ultimi cinque anni è stata segretaria organizzativa e amministrativa della CISL Salerno al fianco del segretario generale Gerardo Ceres che dopo la sua prematura scomparsa a febbraio ora la Cortazzi andrà a sostituire. Con lei in segreteria entrano Peppe Baldassarre, proveniente dalla Fai, ed Enzo Brancaione, proveniente dalla Filca. Gerardo Ceres, ha detto la Cortazzi dopo l'elezione, non era solo il mio segretario generale ma un amico con cui ho condiviso tantissimi momenti che ho nel cuore. Porterò avanti quel percorso che lui ha tracciato nel congresso del 2022. Saremo il sindacato dei lavoratori e tra i lavoratori e lo continueremo a ricordare nel lavoro quotidiano.